Se il Premier l'ha presa molto male, lasciandosi scappare anche una lacrima in perfetto stile fornero, di tutt'altro tenore è stata questa notte la reazione del fronte del no, unito da un lungo boato di esultanza. È una notte drammatica per il governo Renzi e per il Partito Democratico, una notte che comincia malissimo con i primi exit poll che non lasciano spazio alle illusioni, dando il sì a percentuali che non superano il 46%. La forbice con il passare delle ore si allarga con il no che supera il 59% e il sì fermo a poco più del 40%, dati ai quali va accompagnato quello dell'alta affluenza che si attesta al 69%. Lega e Forza Italia già nei minuti successivi alla chiusura dei seggi chiedono le dimissioni del Premier e la vittoria del popolo contro i poteri forti di tre quarti del mondo esulta il leader leghista Matteo Salvini, laddove il capogruppo di Forza Italia, Renato Brunetta, attacca per Renzi e game over. Il vice segretario del PD, Lorenzo Guerini, annuncia per martedì la direzione di un partito nel quale oggi la minoranza si prende la sua rivincita. Eravamo nel giusto, sottolinea Roberto Speranza. Poi, poco dopo la mezzanotte e dopo aver sentito il capo dello Stato, tocca a Renzi assumersi le responsabilità della sconfitta. Non siamo riusciti a convincere la maggioranza dei nostri concittadini. Abbiamo ottenuto milioni di voti, ma questi milioni di voti sono impressionanti ma insufficienti. Volevamo vincere, non partecipare. E allora mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta. E dico agli amici del SIC che ho perso io, non voi. Io sono diverso, ho perso, e lo dico a voce alta, anche se con il nodo in gola, perché non siamo rubò. non sono riuscito a portarvi alla vittoria. Vi prego di credermi quando dico che comunque ho veramente fatto tutto quello che penso si potesse fare in questa fase. Io non credo che la politica sia il numero inaccettabile di politici che abbiamo in Italia. Io non credo che si possa continuare in un sistema in cui l'autoreferenzialità della cosa pubblica è criticata per decenni da tutti e poi al momento opportuno non viene cambiata. È evidente, è scontato, fin dal primo giorno l'esperienza del mio governo finisce qui. Credo che per cambiare questo sistema politico dove i leader sono sempre gli stessi e si scambiano gli incarichi ma non cambiano il Paese, non si possa far finta per l'ennesima volta che tutti rimangano incollati alle loro abitudini prima ancora che alle loro poltrone. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, c'è il CNEL, non ce l'ho fatta e allora la poltrone che salta è la mia. Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri, ringrazierò i miei colleghi per la straordinaria avventura, una squadra coesa, forte, compatta e salirò al Quirinale dove al Presidente della Repubblica consegnerò le mie dimissioni. L'Italia può contare sulla guida autorevole Salda di Mattarella, sono queste le parole del Premier che poi si rivolge al fronte del No in chiave post-Italicum. A voi, onori e oneri, tocca a voi fare una proposta sulla legge elettorale, una proposta sulla quale anche il Movimento 5 Stelle dovrà dire la sua. Ha vinto la democrazia, addio Renzi, scrive Beppe Grillo dal blog dove annuncia dalla prossima settimana inizieremo a votare online il programma di governo e in seguito la squadra di governo. E' netto è il commento del candidato Premier in pector del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, l'uomo solo al comando non esiste più e mentre anche il leader di AP, Angelino Alfano, si congeda con un tweet, abbiamo giocato una bella partita e l'abbiamo persa, da oggi sarà il Quirinale a fare le sue valutazioni, con un obiettivo innanzitutto far uscire il prima possibile il Paese dal coro d'incertezza in cui questa notte è precipitato.